Se pensiamo al BFC e alla sua storia, forse questa è la disgrazia nostra. Sono stampati tutti qui nella memoria i terzini di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Dopo aver avuto Tazio sulla destra e Caprini che giocò a sinistra, ecco qui Zaccardo Spinger sulla destra, Macellari tira più a sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ulli striglia il tarozzino sulla destra, uome batte e fallo da sinistra, Paolo Lis viene da Foggia sulla destra, Vlado Smith lo savo di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ha giocato anche davanti alla difesa, però dai noi la terzino a destra, Vettarini e due meloni di Simona, ma che per affice la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Para Matti uno che segna da sinistra, per Rinaldi neanche un gol da destra, Capuano pizzaiolo da sinistra, e Bregaschio fa legname a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Noi crediamo sia una curva Andrea Costa, ma è un terzino che gioca a sinistra, La pisciata in compagnia è di sinistra, ma che cesso che ve le le a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, Quella dove si tuffava per golizi, era sempre la corsia sinistra, Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La strategia, la strategia, Ma al grado tutto vedo ancora che ci sia, La perversione, l'ossessione di giocare in serie A, Con una squadra che terzini non ne ha, E quali non si sa, e quali non si sa. Su sì fenomeno che segna con il Parma, è una mortadella di sinistra, Antonazza a zampettare sulla fascia, sembrano paperoli sulla destra, Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Servirebbe un laterale sulla destra, è uno buono anche per la sinistra, Qualche volta la fortuna è stata a destra, ma che sfigavi sulla sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Io lo so, sono un tifoso un po' deluso, ma la situazione l'abbiamo vista, Anche quello con il nome da Romano, ave Cesar anche lui a sinistra, Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La strategia, la strategia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia, La perversione, l'ossessione di giocare in serie A, Con una squadra che terzini non ne ha, E quali non si sa, e quali non si sa. Non abbiamo un buon terzino lì a sinistra, manca pure un laterale a destra, Come sempre ultimamente lì a sinistra, dobbia riscaldare la minestra, Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Siamo pieni di carcasse lì a sinistra, non si è messi certo meglio a destra, L'anno è sempre più in ritardo a sinistra, e Zenoni è imbalsamato a destra, Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ci proviamo con Valiani a sinistra, forse era il giro a finire a destra, E la palma se resta sempre un gran figone, se la bomba lì sulla sinistra, Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ci incazziamo con i lanna e con i Zenoni, ma io dico che la colpa è nostra, Siamo sempre stati pieni di coglioni, che hanno giocato a sinistra o a destra, Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 Basta!